Musica Benvenuti a questa nuova edizione di Licata News che apriamo con la cronaca, ci spostiamo a Palma di Montechiaro. Nuovi atti intimidatori a Palma, dopo gli episodi che hanno riguardato il sindaco Pasquale Amato in prima persona, a subire danni alle proprie auto sono stati tre vigili urbani. Il sindaco chiede al prefetto l'istituzione della videosorveglianza e fa affiggere un manifesto in città, i particolari in questo servizio. Incontro con i dirigenti del commissariato di polizia e dei carabinieri ieri mattina per il sindaco di Palma di Montechiaro Pasquale Amato. Il momento di confronto si è reso necessario a seguito dell'episodio registratosi nella giornata di giovedì, quando tre vigili urbani palmesi hanno subito intimidazioni attraverso danni alle proprie auto, alle quali sono stati tagliati i copertoni. Dopo un'approfondita riflessione tra amministrazione comunale e forze dell'ordine, dichiara oggi il sindaco di Palma Pasquale Amato, è stato deciso di pianificare azioni congiunte sul territorio, perché chiunque si renta conto che colpire la polizia municipale comporta mobilitazione dello Stato alla stregua delle altre forze dell'ordine. Per farla finita quindi con la convinzione diffusa fra i farabutti che colpire la polizia municipale è possibile perché faci l'obiettivo. Le conclusioni dell'incontro sono state riportate in un'apposita nota inviata al prefetto, affinché si possa attivare e realizzare un sistema di videosorveglianza diffusa per aumentare il controllo sul territorio di Palma. Successivamente l'amministrazione ha incontrato il corpo della polizia municipale e ascoltato cogliendo segnalazioni, suggerimenti e disagi. Al termine dell'incontro sono state date disposizione agli indici comunali per accelerare le procedure per l'espletamento dei concorsi al fine di assumere sei vigili urbani. Sono stati disposti anche altri interventi nella regolamentazione del traffico locale per ridurre condizioni di disagio al traffico al fine di contenere l'esposizione dei vigili. Un manifesto di sensibilizzazione civica, infine, è stato realizzato dall'amministrazione Amato e affisso sui muri della città. Noi continueremo a fare il nostro dovere, conclude il sindaco. Ora tocca anche ai cittadini assumere posizione e aiutarci a farli vivere in un contesto migliore. Lo scorso 28 ottobre due rapinatori avevano fatto irruzione all'interno dell'agenzia Monte dei Paschi di Siena di San Giovanni Gemini e dopo aver minacciato verbalmente il cassiere si erano fatti consegnare la somma di poco più di 2.000 euro in contanti, dileguandosi subito dopo lungo la strada statale 189 in direzione di Palermo a bordo di un Audi TT. A mezzogiorno di ieri i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Cammarata hanno dato esecuzione al provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso a carico di Giovanni Migliarba, palermitano 22 anni, già noto alle forze dell'ordine e detenuto per un altro provvedimento restrittivo presso il carcere Pagliarelli del capoluogo siciliano. Ulteriori attività sono in corso per l'identificazione di tutti i responsabili dell'attività criminosa. Sono le 15.30 di ieri, allora quanto un ignoto malfattore minacciando con un cutter gli impiegati della locale Banca Popolare Sant'Angelo di Canicattì si impossessa di 16.500 euro in banconotte di vario taglio, dileguandosi poi a piedi per le vie adiecenti. La centrale operativa del comando Carabinieri Compagnia, avvisata dell'evento criminoso, fa così convergere sul posto unità del nucleo operativo e radiomobile. Scattano immediatamente le indagini sull'accaduto che si sono concluse in serata con il fermo di un 31enne disoccupato pluripregiudicato di Campobello di Licata, a carico del quale i militari hanno raccolto gravi indizi di colpevolezza circa la commissione della rapina. Il fermato, su disposizione del pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica di Agrigento, è stato trattenuto nelle Camere di Sicurezza della Caserma dell'Arma, in attesa dell'ulteriore corso di legge. Cambiamo argomento. Renzi, commissari ai depuratori siciliani. La decisione è arrivata ieri, visto lo stallo nell'impiego dei fondi europei destinati agli impianti di depurazione dell'isola. Oltre un miliardo di euro di fondi europei non spesi per lavori di ammodernamento, messi in sicurezza e adeguamento dei depuratori siciliani. Da qui il commissariamento disposto direttamente dal Premier Renzi, che ha annunciato il provvedimento ieri sulla sua e-news. Ieri ho fatto una riunione sugli impianti di depurazione per la Sicilia. C'è più di un miliardo di euro tecnicamente fermo ed è ingiusto e inaccettabile. Il commissariamento è l'unica strada e ho chiesto di procedere rapidamente senza guardare in faccia nessuno. Una delibera delle Cipe del febbraio 2012, spiega ancora Erasmo De Angelis, capo della struttura di missione contro il dissesto idrogeologico, aveva stanziato 1,6 miliardi di euro per 183 opere urgentissime in reti fognari e depuratori nel sud Italia. Di questi, 1,1 miliardi assegnati alla Sicilia per 93 opere. Si tratta di fondi, sottolinea D'Angelis, fuori da ogni patto di stabilità, ma mai spesi se non per una quota minima di circa 24 milioni. Il rischio paventato ormai da diversi anni diventa pertanto realtà e anche gli impianti di depurazione siciliani e quindi anche quella di contrata a ripallino all'Icata finiscono per essere commissariati. Ci arrivano diverse segnalazioni da parte di nostri telespettatori circa la presenza nel territorio comunale di presunti truffatori che operano con il metodo dello specchietto retrovisore rotto, individuano una persona anziana, colpiscono la macchina dal lato destro con una pietra, poi la inseguono e le fanno il reggiro chiedendo dei soldi. Siamo stati invitati a far passare televisivamente questo annuncio e denuncia così da mettere in guardia su questi strani atti vandalici. Nella serata di ieri il personale della Guardia Costiera di Porto Empedocle ha condotto un'operazione di contrasto alla pesca abusiva ad opera di un'unità priva di regolare licenza da pesca intenta calare le proprie reti in porto. Dopo il tramonto alle 18.30 una moto vedetta della Guardia Costiera ha intercettato all'interno del porto una piccola unità di porto con tre persone e intenta calare le reti per effettuare cattura di novellame. I controlli si sono conclusi intorno alle ore 20 e a parte il tentativo di fuga iniziale dell'unità e l'allontanamento di due dei tre trasgressori, non hanno registrato momenti di tensione grazie alla professionalità e all'esperienza dei militari della Guardia Costiera nonque al consueto e prezioso ausilio di autopattuglie della Polizia e dell'arma dei carabinieri. Torniamo all'icata, cambiamo argomento. L'OPA ha organizzato questa mattina un convegno contro la violenza di genere all'Istituto Tecnico Recapriata. L'obiettivo è quello di sensibilizzare i giovani. Vediamo. L'aula magna dell'Istituto Tecnico Recapriata ha ospitato questa mattina il convegno dal titolo Oltre il Silenzio organizzato dall'Osservatorio Permanente Antiviolenza di Genere. Si è parlato di violenza in modo diverso e coinvolgendo da vicino gli studenti. A fare gli onori di casa il Vicepreside Gaetano Truisi che ha preceduto gli interventi di Giovanni Giudice e Dirigente della Divisione Anticrimine della Questura di Agrigento, del Tenente Currao Comandante della Stazione Carabinieri di Ricat, dell'assessore Vinci del Comune di Palma e dell'ispettore di Polizia Annalisa Gianchetti. La Questura di Agrigento è impegnata con la Divisione Anticrimine che dirigo io a diffondere anche questa cultura di protezione nei confronti di tutti quelli che sono i fenomeni di violenza di genere. Siamo impegnati nelle scuole ma anche a partecipare a vari convegni. Noi ci occupiamo di stalking e anche di ammonimento effettuato dal questore, quindi ci occupiamo anche di fenomeni criminali, comunque pseudo-criminali, ci occupiamo della repressione ma sappiamo benissimo che è importantissimo prevenire questi fenomeni appunto diffondendo una nuova cultura soprattutto tra i ragazzi, tra le nuove generazioni. Non è mancata la presenza del commissario straordinario Maria Grazia Brandara, sempre sensibile a tematiche simili. Io non sono mai per le campagne contro qualcosa, ma per le campagne a favore. Quindi il messaggio che lancerò stamattina è quello dell'amore, l'amore verso il prossimo in generale, ma l'amore sincero e puro nei confronti dell'altro genere. Vorrò lanciare anche una, ho chiesto la collaborazione per non gravare sulle casse del comune dell'Associazione Agorale delle Donne che peraltro presiedo e lancieremo una campagna che i ragazzi credo apprezzeranno perché è fatta attraverso i social e quindi insomma attraverso selfie che loro faranno attraverso i social che sarà intitolata Astaghi 5. Il numero 5 sta per quelle che sono le 5 tematiche che sono riconosciute a livello europeo come antidiscriminazione, quindi la discriminazione di genere, di etnia, di sesso, di religione. Vediamo i ragazzi che risposta avranno. Probabilmente parlando il loro linguaggio saranno più sensibilizzati rispetto magari a discorsi un po' più seriosi. Spero bene, questo esperimento vorrò ripeterlo in altre scuole della città di Licata perché poi la fase finale vorrò arrivare in questi pochi mesi di mia permanenza alla guida di questa città a far diventare Licata città dell'antidiscriminazione. È stato consegnato ieri all'arcivescovo di Agrigento Francesco Montenegro il calendario 2015 dedicato alla prima visita pastorale di Papa Francesco a Lampedusa avvenuta l'8 luglio 2013, un viaggio di appena 5 ore nella maggiore delle Pelagie durante il quale il Papa ha voluto manifestare il suo dolore per i migranti morti in mare chiedere perdono per le tante colpevoli omissioni pregare con i superstiti di questo esodo ringraziare le comunità di Lampedusa e Llinosa. Ci spostiamo a Porto Empedocle si amplia l'intervento di riqualificazione dell'aria adiacente alla stazione ferroviaria con l'ampliamento della zona parcheggi a nord di piazza del Casellante per la quale il comune di Porto Empedocle ha già avviato la riqualificazione grazie anche alla donazione da parte di un privato di una porzione di aria aumenterà il numero dei parcheggi sia a servizio della stazione ferroviaria che a ridosso del porto. Sabato 21 febbraio alle ore 21 l'esordio della compagnia teatrale licatese denominata Itaggeditura sentiamo di cosa si tratta in questa intervista di Loren Corbai. Arrivano i Tragediatura al Teatro Re di Licata la compagnia teatrale è composta integralmente dai sordienti che per la prima volta si affacciano a questo vasto e articolato mondo a dirigere l'ampio gruppo composto da una trentina di elementi è invece una veterana dell'ambito teatrale Nicoletta Casano che per anni ha calcato il palcoscenico. Stiamo per mettere in scena il nostro primo spettacolo con il gruppo teatrale che è uno dei gruppi di lavoro di questa associazione culturale questo gruppo teatrale si chiama Itaggediatura all'alicatese con due G e dieci R e questo lavoro si chiama C'era una volta non re con tre R sempre all'alicatese che è una favola teatrale liberamente molto liberamente ispirata alla favola del figlio cambiato di Luigi Pirandello e quindi siamo in notevole fermento perché sono le due settimane prima e insomma siamo un po' emozionati tutti anche se non siamo tutti diciamo dei novellini del palcoscenico però l'emozione è sempre tanta. Come mai la scelta di questo testo? La scelta di questo testo è perfettamente in sintonia con quelle che sono le istanze che io intendo promuovere nel teatro cioè di ricerca, di tradizione e soprattutto nei prossimi spettacoli chiaramente di interculturalità che sono poi proprio i presupposti dello statuto dell'Associazione Artistica 33. Il testo in realtà è un testo che seguendo lo schema di Pirandello è narrato in forma di favola quindi questo spettacolo è una affabulazione più che una classica commedia teatrale con dialoghi, scenografie eccetera infatti sarà questa la novità che noi porteremo l'abbattimento totale della quarta barete quindi un'unica cosa spettatori, pubblico saranno un'unica cosa e soprattutto perché io ci ho tenuto a fare un grande lavoro di ricerca devo dire con i ragazzi e no perché siamo dai 66 anni in questa compagnia teatrale un grande lavoro di ricerca sulle nostre tradizioni il fulcro di questo lavoro teatrale che Pirandello scrisse e che a me è sempre piaciuto tantissimo è proprio una tradizione tipicamente nostra siciliana e specialmente licatese cioè il fatto che ci fossero delle donne di fora le chiama Pirandello che intrecciassero ai bambini una treccina che noi tutti chiamiamo ancoracezza donna quindi è incentrato tutto su questa ricerca delle nostre tradizioni diamo l'appuntamento al pubblico che vorrà venire a Teatro Re ricordiamo a vedervi sì, l'appuntamento è per sabato 21 febbraio 2015 ovviamente alle ore 21 noi siamo puntualissimi vi aspettiamo in tanti il consueto appuntamento con la programmazione del Fly Cinema dal 5 febbraio al Fly Cinema Italiano Medio Giulio Verme reagisce fin da piccolo all'appiattimento dei genitori sui non valori televisivi con una preoccupazione insistente per l'educazione civica e l'ambiente ma il suo atteggiamento integralista lo confina ad un lavoro di smistamento rifiuti che conferma la sua tormentosa consapevolezza dell'erciume che ci circonda anche il rapporto con la fidanzata Franca è logoro lei lamenta che lui parli molto e concluda poco poiché fra il dire e il fare c'è di mezzo il male il cittadino modello Giulio cederà ad una tentazione banale assumere una pasticca fornita gli dall'amico Alfonso che dovrebbe aiutarlo ad usare ben di più di quel 20% del proprio cervello accessibile agli esseri umani il film sarà trasmesso alle 18, alle 20 e alle 22 una notte al Museo 3 Larry, il guardiano del Museo di Storia Naturale di Manhattan questa volta è alle prese con la strana muffa verde che sta ricoprendo gradualmente la tavola del faraone quella che di notte dà vita a tutti i personaggi all'interno dell'istituzione museale per venire a capo del problema e permettere alla magia notturna di continuare a fluire Larry dovrà recarsi alle British Museum il film sarà trasmesso alle ore 18 e alle ore 20 il nome del figlio Paolo Pontecorvo agente immobiliare con la battuta pronta e il vizio della beffa e Simona, aspirante scrittrice di periferia col vizio della gaffa aspettano un bambino in occasione di una cena che raccoglie intorno al tavolo i futuri zii e la futura zia Paola comunica con enfasi e convinzione il nome scelto per il nascituro la famiglia, composta da professori universitari, insegnanti e musicisti allineati a sinistra, non reagisce bene davanti a quel nome un nome inquadrato a destra e dentro un passato drammatico per la nazione il film sarà trasmesso tutti i giorni alle ore 22 sono aperte le prevendite per il film 50 sfumature di grigio che racconta la relazione tra la studentessa del college Anastasia Stille e il milardario 27enne Christian Grey i romanzi successivi della serie 50 sfumature di nero e 50 sfumature di rosso esplorano in profondità il rapporto tra i due protagonisti il film sarà trasmesso dal 12 febbraio alle ore 18 alle 20 e alle 22 inoltre potrete trovare tutti i trailer su www.flycinema.it la rubrica degli eventi del mese e poi la brecca pubblicitaria dal 3 al 28 febbraio la tua spesa vale di più fai due acquisti nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì e con un euro ti rimborsiamo quello di minor valore in buoni acquisto centro commerciale in porto, la promozione è servita questo programma è offerto da ristorante e pizzeria all'opera di Angelo Bona via Gela 64, Alicata dai fratelli Antona grande la qualità, grande la scelta di piccolo c'è soltanto il prezzo, scusate se è poco nuova è il sombrero, strada statale 115, contrada a Safarello, Alicata Alicata domani cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata non sono previste piogge durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 13 gradi la minima di 6 gradi i venti saranno al mattino moderati e proverranno da ovest, nord ovest al poveriggio tesi e proverranno da ovest mare molto mosso, umidità oscillante tra il 56 e l'81% questo programma vi è stato presentato da Sportline in via Palma 27 a Alicata Agri Garden di Agostino Mugnoz via Palma 312 a Alicata Al centro commerciale Il Porto arriva il Carnevale domenica 8 febbraio l'allegria del Carnevale baby dance, clown, personaggi dei cartoons e tanto altro iscrizioni per l'evento Spila in Galleria venerdì 13 febbraio la terza edizione di Spila in Galleria protagonisti i bambini di una colorata sfilata di mascherine centro commerciale Il Porto l'allegria del Carnevale la trovi da noi come sa tu andrà come sa tu andrà come sa tu andrà benvenuti con la seconda parte del nostro notiziario lunedì 9 febbraio alle ore 10 nella chiesa annunziata dei catalani in via Garibaldi a Messina si terrà l'annuale appuntamento in occasione della ricorrenza di San Francesco di Sales patrono dei giornalisti e del messaggio del Santo Padre per la giornata mondiale delle comunicazioni sociali che ha per tema comunicare la famiglia ambiente privilegiato dell'incontro nella gratuità dell'amore alla presenza di autorità religiose, militari e civili interverrà il professore Francesco Pira docente, sociologo e docente di comunicazione istituzionale presso l'Università di Messina e lo Iusve con una relazione dal titolo la comunicazione sociale della chiesa da andate predicate ai social network con la tradizionale consegna delle chiavi della città del sindaco al Pepe Nappa si darà inizio sabato 14 febbraio alle ore 16.30 al Carnevale di Sciacca edizione 2015 con le tradizionali sfilate dei carri allegorici e dei gruppi mascherati la festa è stata presentata ieri al Museo del Carnevale nel corso di una serata spettacolo condotta dall'assessore alla cultura Salvatore Monte e apriamo la pagina dedicata allo sport partendo dal calcio il Licata ha annunciato che presenterà ricorso contro la pesante squalifica di sei giornate inflitta a Domenico Cannizzaro domani intanto si partirà alla volta di Castelvetrano i particolari in questo servizio secondo appuntamento consecutivo in trasferta per l'Accademia Licata che domani dovrà vedersela contro la folgore di Castelvetrano la squadra del presidente Bruno Vecchio ha trascorso una settimana particolarmente pesante dopo la sconfitta registrata domenica scorsa contro il Castellammare e in settimana l'arrivo della notizia relativa alla squalifica per sei giornate di Domenico Cannizzaro espulso nel corso dell'ultima gara dal direttore sportivo la società con in testa il presidente Bruno Vecchio ha già annunciato che presenterà ricorso contro la decisione presa in quanto è stata ritenuta troppo pesante l'episodio ha scosso un po' l'ambiente giallo-blu che però non si può permettere di perdere la concentrazione in vista di un nuovo impegno di campionato importante domani a casa della folgore si dovrà tentare infatti di ottenere un risultato positivo oltre alla mancanza certa di Domenico Cannizzaro in dubbio la presenza di Andrea Pinto il resto della formazione è invece ruolabile da mister Angelo Vecchio dal calcio alla basket studentesca Licata impegnata ancora in casa domani pomeriggio contro il Gravina dell'ex Tiziano Burgio altro scontro diretto per i ragazzi di Coaccettore Castorina vediamo è stata immediatamente metabolizzata dalla studentesca vivere e viaggiare la sconfitta è inaspettata rimediata in casa dell'amatore Messina il roster di Coaccettore Castorina domenica scorsa ha accentrato una brillante vittoria contro Santa Croce Camerina una delle dirette concorrenti per la promozione in C1 anche in questo caso si è trattato di una grande rimonta maturata nei minuti finali con il punteggio finale che ha sorriso di tre alla studentesca vivere e viaggiare giallo blu pronti ad un'altra sfida interna di alta classifica domani al Palafragapane contro il Gravina dell'ex Tiziano Burgio il gruppo ha lavorato per tutta la settimana gli ordini di Coaccettore Castorina che avrà tutto l'organico a sua disposizione è chiaro che anche per quest'altro esame di maturità Capitan Falanca e compagni confidano molto sull'apporto in termini di tifo del Palafragapane che sette giorni fa anche nei momenti di maggiore difficoltà ha saputo rialzare il morale della studentesca Battere Gravina vorrebbe dire mettere una serissima ipoteca sul raggiungimento di uno dei primi tre posti che garantiscono la promozione diretta nella categoria superiore mentre la quarta sarà chiamata a disputare gli spareggi la studentesca ha però dimostrato in questo torneo di essersi meritato un'eventuale promozione l'unico rammarico è quello legato alla sconfitta in casa dell'Amatori con quei due punti oggi giallo blu guarderebbero dall'alto le dirette concorrenti poco male però una vittoria domani metterebbe a debita distanza le inseguitrici spalancando le porte della Serie C1 alla vivere e viaggiare per dirigere lo scontro diretto con Gravina la federazione ha designato i signori Melizia e Panno di Piazza Armerina Con questo servizio si conclude questa edizione di Licata News grazie per la cortese attenzione buon fine settimana grazie per la cortese attenzione grazie per la cortese attenzione